Ciao ragazzi e bentornati su Italian Stories with Davide, il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al podcast e di andare sul sito italianstorieswithdavide.com per leggere la trascrizione dell'episodio. In questa lettura vi leggo i primi due capitoli del nuovo romanzo di Paolo Cognetti uscito alcune settimane fa. La felicità del lupo parla di Fausto, un quarantenne che scappa in montagna per trovare una nuova vita lontano dalla città e parla di Silvia, giovane, che in montagna cerca se stessa e ci sono altri personaggi e anche il lupo. Tutti cercano la felicità. Che cosa aspettiamo allora? Sigla e leggiamo! Capitolo 1. Un ristorantino. Fausto aveva 40 anni quando si rifugiò, cercò rifugio, a Fontana Fredda, cercando un posto da cui ricominciare. Conosceva quelle montagne fin da ragazzino, da quando era un ragazzino. E la sua infelicità, quando ne stava lontano, era stata tra le cause, o forse la causa, dei problemi con la donna che era quasi diventata sua moglie. Dopo la separazione aveva affittato, he rented, un alloggio, una casa, lassù. E trascorso un settembre, un ottobre o novembre, a scarpinare per i sentieri, a fare trekking, raccogliere legna nei boschi e cenare davanti alla stufa, the wood stove, assaporando, sentendo il sale della libertà e masticando l'amaro, the bitterness, della solitudine. Scriveva, anche, o perlomeno, ci provava. Nel corso dell'autunno vide le mandrie, the herds, lasciare gli alpeggi, the mountain posture, gli aghi dei larici, the large, the pine needles, ingiallire e cadere. Finché, con le prime nevi, per quanto avesse ridotto all'osso le sue necessità, finirono anche i soldi, che aveva da parte. L'inverno gli presentava il conto, the bill, di un anno difficile. Qualcuno a cui chiedere un lavoro a Milano lo aveva, ma si trattava di scendere, attaccarsi al telefono, risolvere con la sua ex gli aspetti lasciati in sospeso. E una sera, poco prima di rassegnarsi a farlo, di accettarlo, chi capitò di confidarsi di parlare davanti a un bicchiere di vino nell'unico luogo di ritrovo, the meeting place, di Fontana Fredda. Da dietro il suo bancone, Babette, lo capì perfettamente. Era arrivata anche lei dalla città. Ne conservava l'accento e una certa eleganza. Ma chissà in quale epoca e per quali vie. A un certo punto aveva rilevato un ristorante in un posto che, nelle mezze stagioni, in primavera e autunno, non offriva altra clientela che i muratori e allevatori di bestiame, contadini, e l'aveva battezzato, lei aveva chiamato il ristorante, il pranzo di Babette, come il racconto di Karen Blixen. Ed allora tutti la chiamavano così. Nessuno ricordava il suo nome di prima. Fausto ci aveva fatto amicizia per aver letto Karen Blixen e intuito un sottointeso, un'allusione. La Babette del racconto era una rivoluzionaria che, dopo essere fallita la comune di Parigi, l'autogoverno di Parigi del 1871, era finita a fare la cuoca in un paesello di bifolchi, di persone di campagna con poca educazione, in Norvegia. Quest'altra Babette non serviva brodi di tartaruga, ma tendeva, aveva una tendenza, ad adottare gli orfani e a cercare soluzioni pratiche a problemi esistenziali. E dopo aver ascoltato i suoi, i problemi di Fausto, chi chiese? Sai cucinare? Così, a Natale, lui era ancora lì, a maneggiare pentoloni e padelle, pots and saucepans, tra i fumi della cucina. C'era anche una pista da sci, a ski slope, a fontana fredda. Ogni estate si parlava di chiuderla e ogni inverno, in qualche modo, riapriva. Con un cartello stradale, giù al bivio, all'incrocio, e un po' di neve artificiale sparata, messa, in mezzo ai pascoli, attirava famiglioli di sciatori, e per tre mesi all'anno trasformava i montanari, gli abitanti delle montagne, in macchinisti di seggiovia, chairlift, addetti all'innevamento, a mettere la neve, gattisti, che guidavano i gatti delle nevi, e soccorritori, rescuers, in un travestimento, a disguise, collettivo, di cui adesso faceva parte anche lui. L'altra cuoca era una veterana, aveva una lunga esperienza, che in pochi giorni gli insegnò a sgrassare, a togliere il grasso da chili di salsiccia, interrompere la cottura della pasta con l'acqua fredda, allungare l'olio nella friggitrice, e che girare, mescolare la polenta, the cornmeal mush, per ore era fatica sprecata, inotile. Bastava lasciarla lì a fuoco basso, on low heat, e si cuoceva da sola. A Fausto stare in cucina piaceva, ma qualcos'altro cominciò ad attrarre la sua attenzione. Aveva una finestrella da cui passava i piatti in sala e osservava Silvia, la nuova cameriera, ritirare le ordinazioni, gli ordini, e servire ai tavoli. Chissà dove l'aveva pescata Babette. Non era il tipo di ragazza che ti aspettavi di trovare tra i montanari. Giovane, allegra, aria da giramondo, globetrotter. A vederla portare polenta e salsicce sembrava un segno dei tempi, pure lei, come le fioriture, the blossoming, forestagione, o i lupi, che si diceva fossero tornati nei boschi. Tra Natale e l'Epifania lavorarono senza sosta, senza fermarsi, dodici ore al giorno per sette giorni la settimana. E si corteggiarono, si seducevano, così. Lei appendendogli bigliettini sulla lavagna, the board, di sughero, e lui suonando il campanello, the bell, quando i piatti erano pronti. Si prendevano in giro. They made fun of each other. Due piatti e gli sciatori andavano e venivano a una tale velocità che Fausto era lì a grattare, a pulire le pentole, quando si accorgeva. Capiva che fuori era buio. Allora per un momento si fermava. Gli tornavano in mente le montagne. Si chiedeva se in alto avesse tirato vento o nevicato e come fosse stata la luce lassù, sui grandi pianori, i platò, assolati al sole, oltre la quota, l'altitudine, dei boschi. E se i laghi ora somigliassero a lastre di ghiaccio, sheets of ice, o a morbide conche, soft dips, innevate. A 1800 metri era uno strano inizio d'inverno, in cui pioveva e nevicava. E di mattina la pioggia scioglieva, melted, il nevischio della notte. Poi una sera, passate le feste, dopo le festività, con i pavimenti umidi, the damp floor, e le stoviglie, i piatti, asciugate, dried e impilate, si slacciò, si tolse, il grembiule, the apron, da cuoco, e andò di là per un bicchiere, per bere. Il bar, a quell'ora, entrava in una tranquilla, pacifica autogestione, self-management. Babette metteva un po' di musica, lasciava una bottiglia di grappa sul banco, e i gattisti venivano a cercare compagnia tra un giro di pista e l'altro, mentre livellavano le buche, the holes, e i dossi prodotti dagli sciatori. Riportavano in alto la neve, che era stata spinta in basso, la fresavano, la lavoravano, dove era ghiacciata, perché tornasse granulosa. Su e giù, sui loro cingolati per lunghe ore buie. Silvia aveva una stanzetta sopra la cucina. Verso le undici, dal bar, Fausto la vide scendere con un asciugamano, a towel, in testa. Trascinare una sedia accanto alla stufa e mettersi lì, al caldo, a leggere un librone. Lo colpì il pensiero che fosse appena uscita dalla doccia. Intanto ascoltava le chiacchiere di questo gattista, che chiamavano Santorso, come il santo e la distilleria. Santorso gli stava raccontando della caccia, the hunting, ai galli di montagna, the black rose, e della neve. Della neve che quell'anno tardava, non arrivava. Della neve così preziosa per proteggere le tani degli animali, the layers. Dal gelo, dal freddo, dei problemi che dava alle pernice, ai forcelli, agli uccelli. Un inverno senza neve. E a Fausto piaceva imparare tante cose che non sapeva. Ma non ci pensava nemmeno a perdere di vista la sua cameriera. A un certo punto, Silvia si tolse l'asciugamano dalla testa e cominciò a pettinarsi, to comb, i capelli con le dita, avvicinandoli alla stufa. Erano neri, lunghi e lisci, smooth, come quelli di una donna asiatica, e c'era molta intimità nel modo in cui li pettinava. Finché, fino a quando, non si sentì osservata. Alzò gli occhi dal libro e con le dita nei capelli, gli sorrise. A Fausto la grappa bruciò nella gola. Burnt his throat. Come un ragazzo alle prime bevute. Poco dopo, i gattisti tornarono al lavoro e Babette salutò quei due. Ricordò all'uno o all'altra di infornare, di mettere nel forno le brioche la mattina presto. Portò via i sacchi dell'immondizia e se ne andò a casa. Era contenta di lasciare lì le chiavi, i liquori, la musica, e che il suo ristorante favorisse le amicizie, anche mentre lei non c'era. Una piccola comune di Parigi, tra i ghiacci, tra il freddo, della Norvegia. Capitolo 2. Gli amanti. Quella sera fu lei a portarselo su in camera. Fosse stato per lui sarebbe arrivato prima il disgelo. The Thaw. Nella stanzetta di Silvia il solo calore era quello che saliva dalla cucina. Così il rito dello spogliarsi, di togliere i vestiti, risultò un po' sbrigativo, di fretta. Ma per Fausto entrare nudo, naked, in un letto vicino a una ragazza altrettanto nuda e tremante, ebbe qualcosa di commovente e meraviglioso. Era stato per dieci anni con la stessa donna e per sei mesi con l'insipida compagnia di sé. Fu come avere finalmente un ospite, a guest. Esplorare quel corpo, that body. Scoprì che sotto era un corpo forte, solido, cosce e robuste, sturdy heights. Una pelle liscia e tesa. Sopra era spigoloso di ossa, poco seno e tutto costole, clavicole, collarbones, gomiti e poi zigomi e denti con cui entrò in collisione quando il sesso di Silvia divenne un po' violento. Non ricordava più la pazienza che ci vuole per capire i gusti di un'altra persona e farle capire i propri. In compenso, in cambio, aveva le mani piene di ustioni, burn, tagli, cuts, abrasioni da detersivo, buchi della maledetta affettatrice, e trovò una certa corrispondenza nell'accarezzarla con quelle alla fine. Che buon profumo che hai, disse? Sei di stufa. Tu sei di grappa. Ti dà fastidio? No, mi piace. Grappa è resina. Che cos'è? Sono le pigne, the pine coats, che mettiamo nella grappa. Mettete le pigne nella grappa? Sì, di pinocembro. Si raccolgono in luglio. Allora sei di luglio. Fausto si rallegrò. Era contento per quell'idea. Era il suo mese preferito. I boschi folti, densi e ombrosi. L'odore del fieno, dell'erba tagliata nei campi. I torrenti gorgoglianti e l'ultima neve su in alto, oltre le pietraie. Ti diede un bacio di luglio, su quella bella clavicola che sporgeva, che usciva. Mi piacciono le tue ossa, your bones. Sono contenta. È da ventisette anni che me le porto dietro. Ventisette? Non ho viaggiato parecchio. Qualche giro l'abbiamo fatto, sì. Sentiamo, dove erano le tue ossa, vediamo un po', a diciannove anni. A diciannove anni ero a Bologna. Studiavo arte. Sei un artista? No, almeno questo l'ho capito. Di non essere un artista, voglio dire, ero più brava a fare festa. A Bologna, lo credo bene. Hai fame? Un po'. Vado a prendere qualcosa? Sì, ma solo se fai veloce. Ho già freddo. Volo. Fausto scese in cucina, cercò nei frigoriferi, passò davanti alla finestrella sul retro, dietro, e vide che i cannoni sparavano neve lungo la pista. The ski slope. Ogni cannone aveva un faro, una luce, che lo illuminava. Così il pendio, the slope, sopra fontana fredda, era tutto punteggiato da questi fuochi d'artificio, fireworks, getti d'acqua nebulizzata che ghiacciavano a contatto con l'aria. Pensò a Santorso, che nel buio della notte spianava, leveled, i mucchi di neve artificiale. Tornò in camera, con pane, formaggio, pate d'olive. Si infilò sotto le coperte e subito Silvia gli si strinse addosso. Aveva i piedi gelati, ghiacciati. Lui disse. Proviamo ancora. Silvia ha 22 anni. 22? Lavoravo in libreria. A Bologna? No, a Trento. Ho un'amica di lì, Lili. Dopo Bologna se n'era tornata a casa per aprire un posto suo, e a me i libri sono sempre piaciuti, e con l'università ormai avevo chiuso. Quando mi ha invitata non ci ho pensato due volte. Così hai fatto la libraia. Sì, finché è durata, però è stato un bel periodo, sai. È lì che ho scoperto la montagna, Dolomiti di Brenta. Fausto tagliò una fetta di pane, ci spalmò sopra il pate d'olive e aggiunse un pezzo di toma di formaggio. Si chiese come doveva essere scoprire la montagna. Avvicinò il boccone, l'assaggio, alle labbra di lei, ma si fermò a mezz'aria. Allora dimmi, cosa ci fai qui sotto il Monte Rosa? Sto cercando un rifugio, a shelter. Anche tu? Mi piacerebbe lavorare in un rifugio sul ghiacciaio, on the glacier. Per l'estate, dico. Tu ne conosci? Sì, qualcuno sì. Posso avere quel formaggio? Fausto le porse, le diede, la fetta di pane e toma. Silvia aprì la bocca e l'addentò, lo morse. Lui respirò dentro i suoi capelli. Un rifugio sul ghiacciaio, disse. Secondo te lo trovo? Perché no? Si può provare. La smetti di annusarmi? Can you stop smelling me? Sai di gennaio. Silvia rise, rideva. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo, smoke, distufa. Prati secchi, dry lawns e gelati. In attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di miracolo. Se vi è piaciuta la puntata, potete fare una donazione sul mio sito per supportare il progetto. Potete anche iscrivervi al podcast e alle pagine Instagram e Facebook per non perdere le prossime puntate. Su Apple Podcast, invece, potete lasciare una review. E invece sul sito trovate la trascrizione dell'episodio con le parole più difficili. Oggi ho letto solo i primi due capitoli del libro di Cognetti per motivi di copyright, ma se volete leggere il libro vi lascio alcuni link in descrizione per comprarlo. Noi ci vediamo presto e allora non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. E quindi facciamo culture insieme. Ci sentiamo nel prossimo episodio ragazzi. Ciao! Ciao! Ciao!